Il prefabbricato di via Collerenazzo a Pescara, che fino a qualche tempo fa ospitava un punto vendita della Lidl nella zona del Tribunale, diventerà molto presto il nuovo centro vaccinale di accoglienza dei profughi del capoluogo adriatico. L'accordo con Asle Comune è stato formalizzato nei giorni scorsi, come annunciato da Eugenio Siccia, assessore alla protezione civile del Comune di Pescara. Siamo in conduzione di questa bellissima struttura che, subito dopo Asqua, sarà insieme alla Asle coordinata per aprire il centro per la vaccinazione, perché a fine aprile dovremmo restituire il palazzo Fuxas alla signora De Cecco, che ringraziamo. Trasferiremo anche qui la parte dei tamponi per coloro che arrivano dall'Ucraina. E quindi, sostanzialmente, concentreremo in questa struttura tutte le attività sanitarie e propedeutiche alle attività sanitarie che dovranno essere fatte. I tempi sono molto stretti e entro, diciamo, fine mese questo avverrà, quindi praticamente sarà già attiva da subito, sostanzialmente, concentrando le attività qui. Ci tengo a precisare il voler ringraziare la Lidl Italia, che ci mette a disposizione gratuitamente questo immobile, e con anche le utenze, ovviamente, al loro carico. Quindi, un segno di apertura e disponibilità a Vesta Pescara che ringraziamo per questa disponibilità. E qui non soltanto si faranno i tamponi, ma anche i vaccini. Si continuerà a farli qui? Sì, Rossano Di Luzio, che è il responsabile dei vaccini della provincia di Pescara, ha già visionato l'immobile, ha detto che è idoneo insieme al Dopolidoro per quanto riguarda i tamponi, per l'attività sanitaria che è in essere sul territorio e sarà concentrata qui. Ovviamente, questo è una prospettiva di sicurezza, perché vogliamo continuità di questa attività, perché non sappiamo, ovviamente, le evoluzioni del virus, né le evoluzioni, ahimè, della guerra. E ci sarà anche, per chiudere, insomma, il cerchio, anche una postazione di polizia, proprio per riconoscimenti, le pratiche burocratiche, insomma, legate ai profughi? Sì, questo è legato a quello, appunto, ai tamponi e ai profughi, coloro che arrivano dalle zone di guerra. Per la verità, adesso si è un po' fermato questo arrivo, però anche con il signor Questore, insomma, sarà coordinata questa attività, che ricordiamo è coordinata in maniera globale anche da Sua Eccellenza il Prefetto. Il Carlo Masci, ovviamente, su questa attività ha puntato da subito e tutta, ovviamente, l'amministrazione comunale, quindi teniamo a che questo servizio indispensabile, che ci aiuta in momenti molto più difficili, sia pronto a intervenire qualsiasi cosa succeda.